All'inizio ho sbagliato un po' di due luoghi, penso che avete fatto il detenzio, se direte la squadra abbiamo fatto l'ultima partita. Ma di che siete allenati tanto per cercare di arginare il fessimo di Pavano e Maciarone, ma poi non hanno così tanto il personale. Avete incontrato un empoli al di sotto dell'aspettativa? No, no, siamo noi che abbiamo fatto una fine partita, abbiamo studiato, abbiamo fatto poco, stanno molto sprecchi. Loro pensano che abbiano avuto solo due partiti in contropiede e penso che una parte del genere dove c'era sempre c'era Tarabari a viso aperto, ci sta che concedi due palle e un attacco così forte. Ecco, a proposito, due palle e gol per l'Empoli, almeno sei per la Ternana, se andiamo a considerare gli interventi dei portieri, una parata vera per Frignoli, almeno quattro per Bassi. Credo che questi numeri rendano merito al successo della Ternana e lo rendano ineccepibile. Certo, come ho detto prima, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati concentrati per tutti i 95 minuti, siamo stati compatti, abbiamo spiato l'avversario nei minimi dettagli. Certo, come ho detto prima.